E' stata una buona prestazione, finalmente la prima volta che non abbiamo preso gol rischiando veramente poco, piano piano da questo punto siamo migliorati, abbiamo prodotto molto, secondo me è una partita che doveva finire più larga, quindi finire prima, invece la partita è stata fino al 95esimo perché se sei 1-0 si rischia sempre, anche se devo dire che non abbiamo rischiato mai. E' stata una grande partita, abbiamo lottato, questa vittoria è frutto di un grande lavoro, nel tempo abbiamo sempre lavorato bene e questi sono i risultati che otteniamo. Grazie